Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare una torta al microonde senza glutine e all'arancia. Vediamo come realizzare. Sgusciate l'uovo, unite lo zucchero e il pizzico di sale. Quindi cominciate a lavorare con una frusta a mano, così, fino a che lo zucchero non si sarà ben assorbito all'uovo. Otterrete questa cremina, quindi unite l'olio e amalgamate. Scusate ma oggi ho il treppiedi per il telefono rotto, quindi sto facendo tutto a mano. Unite la buccia grattugiata dell'arancia. Setacciate farina di riso, fecola e lievito e aggiungete il succo dell'arancia e amalgamate man mano. Imburrate ed infarinate uno stampo in silicone 17 cm e quindi portate nel microonde a 650 W per 8-10 minuti o altrimenti a 170 gradi per 30 minuti nel forno caldo statico. Grazie a tutti!